Lo scorso 8 novembre l'Associazione Il Guardiano della Natura, Regione Abruzzo e TS di Sulmona e l'Associazione Culturale Corsa degli Zingari e TS di Pacentro hanno stipulato un accordo di collaborazione. Questo accordo mira a svolgere congiuntamente attività sociali, culturali, informative e ricreative in linea con le finalità dei rispettivi statuti. La firma dell'accordo, avvenuta presso la sede legale dell'Associazione Il Guardiano della Natura a Sulmona, impegna le due associazioni a collaborare in regime di mutua assistenza. L'obiettivo è realizzare iniziative comuni che abbiano un impatto positivo sul territorio, sfruttando le sinergie tra le due organizzazioni. Entrambe le associazioni, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si ispirano a principi solidaristici e perseguono finalità di utilità sociale e culturale. L'accordo prevede da ottela la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e ambientale, con un'attenzione particolare alla formazione scolastica e permanente. I presidenti delle associazioni, Venanzo D'Alessandro per il Guardiano della Natura e Giuseppe Dechellis per la Corsa degli Zingari, hanno espresso la loro speranza che le attività derivanti dall'accordo possano promuovere ulteriormente il territorio. L'accordo mira a creare occasioni di socialità e integrazione rivolte soprattutto alle giovani generazioni e ai soggetti in condizioni di fragilità sociale. Un obiettivo secondario, ma non meno importante, è favorire l'incontro tra generazioni e culture diverse, coinvolgendo le realtà associative e giovanili del territorio. Questo approccio mira a rafforzare il senso di appartenenza alle comunità locali e a contribuire alle attività di tutela delle realtà locali in conformità con le norme nazionali e internazionali.